La Commissione europea mette al bando TikTok. Ai suoi dipendenti è stato chiesto di rimuovere entro il 15 marzo l'applicazione del social network cinese dai telefonini aziendali e personali. Una decisione che è stata motivata dalla necessità di garantire la sicurezza informatica. Intanto l'azienda ha spiegato che il social lavora costantemente per proteggere i dati dei 125 milioni di persone che sono su TikTok in tutta l'Unione Europea. Grazie.